Verco adesso la porta del bagno e mi viene spontanea una domanda per Medicina 33. Perché se uno si fa uno spinello ottiene un effetto esilarante, cioè gli viene da ridere. Mentre se si fa un buco nel braccio c'è pericolo di morire. Lo chiediamo al professor Toxic, qui vicino a me. Non può rispondere in quanto in questo momento ha il laccio emostatico legato al braccio. La risposta alla prossima puntata di Medicina 33. Ciao dal vostro Luciano Onder. Ciao dal vostro Luciano. Grazie.